Bentornati su MyFootballGersy. Vediamo una maglia del campionato brasiliano. Questa è la seconda maglia del flamenco per la stagione 2022. Grazie per la visione! Semplice ma molto elegante. Nella mia classifica prende 4 stelle. Come dico, è una maglia semplice, una maglia bianca, però la rifinitura in rosso, questo bordino in nero, secondo me danno un fascino particolare alla maglia. Il costo lo vedete qui sopra, come al solito, estremamente vantaggioso e vi ricordo tra l'altro che in descrizione trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari. Qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale, in modo da avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.